ragazzi altro giro altra corsa solo che stavolta stavolta sembra veramente un gran bel pesce questa sicuramente non è della taglia di quella di prima questo sicuramente è un pesce veramente più importante questo è sicuramente un pesce più importante adesso ancora non sono riuscito a vederla dicevo sono ancora riuscito a vederla ma senza dubbio questo è un pesce più bello adesso aspettiamo di portarla a guadino intanto prendiamo il guadino sì sicuramente è un pesce o tira più o è più bello perché bella carpotta siamo più o meno un chilo sopra quella di prima bella veramente bella eccola qua bellissima bella 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 ragazzi questo è un bel pesciotto eh adesso stendo un attimo il materassino e poi vediamo un po com'è sto pesce allora ecco qua vediamo com'è sto pesce e questa è decisamente più bella eh e questa è decisamente più bella eh questi ami della Preston sono qualcosa di di spettacolare veramente spettacolare stiamo della Preston non perdonano piccolini ami del 10 ma cavolo veramente veramente degli ami spettacolari eccola qua eccola qua rotonda qua siamo sui penso tre chili tre chili e mezzo al massimo perché comunque molto panciuta quindi probabilmente siamo sui tre chili e mezzo ragazzi che dire il terzo pesce bocca da aspirapolvere siamo al terzo pesce e ormai speriamo di continuare così adesso due foto di rito e poi gli si ridà la giusta libertà che merita